Ciao a tutti, benvenuti nel Photoshop di Barbie. Sarà una puntata, però scusateci. Perché praticamente dovremmo far vedere noi dei vestiti e voi dovrete votare. Qual è il vostro vestito preferito? Quindi, si inizia! Il primo che ha fatto Samantha. Piacere, sono Samantha e ho creato questo bellissimo vestito dorato. Votatemi per piacere, voglio diventare una modella famosa. Passiamo con la mia amica, Rosalba. Piacere, sono Rosalba e sono una fata. E oggi voglio farvi vedere questo vestito. È fatto in questo modo e l'ho creato io con le mie mani. È fatto così, tutto colorato. E se vi piace, votatemi assolutamente per piacere. Perché voglio diventare una stilista di vestiti per far farle, anche di carnevale. Passiamo con la mia amica, Jennifer. Io la chiamo sempre Jenny, però. Piacere, sono Dalia e sono una persona molto semplice. Come vedete lei che insieme a Ietta. Solo che mi volevo dare un po' alla pazza gioia. Insomma, ho creato questo capo. Tutto viola con il velo. Guardate. Se vi piace questo vestito, mi raccomando, votatelo. È davvero fatto bene. Mi raccomando. Piacere, sono Anna. E io sono una giornalista. Solo che vorrei diventare tipo una modella, una stilista di moda. Ho fatto questo capo. Tutto bello, con il velo bianco. Mi raccomando, votatemi nei commenti. Mi chiamo Anna. Siamo io, Dalia e Samantha fino adesso. Quindi quattro ragazze. Ne mancano due. Mi raccomando, tra Anna, Samantha, Dalia, Anna, Samantha, Dalia, Jennifer e Louise, chi votate? Mi raccomando. Scusate se prima la mia amica ha detto Jennifer, ma in verità era Anna. Scusate. Un piacere. Io sono Jennifer. Non dice che copio la voce di Girl Barbie, perché erano uguali le Barbie, no? E quindi io come devo parlare, scusate? Comunque io ci dovremmo far vedere questo benissimo capo. È fatto in questo modo, con tutti i fiocchi. Perché chi dice che copia Girl Barbie è proprio uno stupido. Perché nessuno copia nessuno. Le cose nel mondo sono per tutti. Ah, che gente idiota che quando fa così. Comunque, mi raccomando, votatemi sotto nei commenti. Io mi chiamo Jennifer. Mi raccomando, votate il mio vestito. È cucito a mano da me, non di nessun altro. Piacere, sono Louise. E io oggi vi cercherò di farvi vedere questo bellissimo vestito. Tipo a spagnolo, l'ho fatto. Niente, io sono Louise. Votatemi, mi raccomando, sotto nei commenti. Se no, non rimarrei molto male. Scusate, ciao. Tra queste sei giovani ragazze, chi vincerà tra... Mi raccomando, votate tra Samantha, Dalia, Anna, Louise, Jennifer. No, Louise e Jennifer. Quindi cinque ragazze. Quindi, mi raccomando, votate la ragazza che avete preferito che ha fatto il vestito. Noi ci vediamo a un altro video, cioè all'estrazione. Oppure altri video. Ciao, e non dite che copiamo nessuno. Perché, mi raccomando, poi ve lo spiegheremo in un video che faremo a parte. Ciao!